Da Cortina a Parigi, da chi ospiterà i giochi invernali del 2026 a chi avrà i 5 cerchi olimpici protagonisti tra un anno. 23 giorni di percorso e di emozioni in 25 tappe con 70 atleti paralimpici protagonisti. È Obiettivo Tricolore la grande staffetta ideata da un grandissimo campione come Alex Danardi per avvicinare attraverso il progetto Obiettivo 3 quante più persone possibile allo sport paralimpico. Questa quarta edizione, accolta con sincero entusiasmo, partirà il 10 settembre da Cortina D'Ampezzo. Cortina Senza Confini è nata proprio con lo specifico obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica in che modo? Attraverso eventi e progetti che possano appunto portare ad una condivisione e soprattutto valorizzare l'unicità della persona. Il primo giorno prenderanno il via tre ciclisti. Faranno tappa a Longarone per un minuto di raccoglimento guardando la diga del Vaionta. Poi subito la seconda tappa fino a Conegliano. Da Conegliano altri due atleti il giorno dopo partiranno per raggiungere Caselle d'Altivore. Da Caselle la staffetta si porterà a 90 Padovana, quindi da Padova si andrà uscendo dal Vento a Valleggio sul Mincio per poi arrivare sotto la Tour Eiffel il 1 ottobre.